Si è svolto questo pomeriggio a partire dalle 17 un presidio del movimento NoTav davanti alla sede della CMC di Ravenna, una delle cooperative coinvolte nel progetto di costruzione del collegamento ferroviario a Torino-Lione, ampiamente discusso durante questi anni. Il movimento ha deciso di protestare davanti ai cancelli della CMC per dire basta alle grandi opere inutili che devastano una porzione di territorio della Val di Susa. Il presidio ha ricevuto inoltre l'appoggio della rete antifascista di Ravenna.